Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo, giornata di venerdì con una perturbazione che lambirà i settori alpini, difatti la perturbazione la ritroveremo più corposa sui settori altralpe ma appunto lambirà anche parte del nord con qualche temporale. Al centro-sud invece sempre dominio in contrastato dell'alta pressione africana. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che succederà con questi scrosci di pioggia che interesseranno Alpi e Prealpi in parziale intensamento durante il pomeriggio anche ai settori pedemontani della Lombardia, le medio-alte pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ecco la grafica in sintesi con dei temporali su Alpi e Prealpi, alta Lombardia, parte della pianura Veneta e Friulana, altrove invece al centro-sud sole e caldo in intensificazione torneremo a toccare i 35-36 gradi su molte zone interne appunto delle regioni centro-meridionali. Dettagli, ulteriori approfondimenti vi trovate scaricando l'app di Trevi Meteo.